Non era, volevamo essere così bassi, però poi ci ha schiacciato la Lazio, la forza della Lazio è stata tale da metterci lì nelle condizioni di difenderci anche a limite d'aria e poi però siamo stati troppo timidi perché alcune volte si sono create delle situazioni, delle potenziali situazioni che potevamo creargli qualche grattacapo. Quando nel secondo tempo pensavamo di stare più in gara sono arrivati due golli nel momento in cui la partita sembrava molto più tranquilla che praticamente ha rotto gli equilibri anche se poi sul 2-0 abbiamo avuto due situazioni che potevano riaprire la gara perché queste sono le partite considerate l'avversario che avevamo di fronte e speravamo di fare evidentemente qualcosa di più.